Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo video di allenamento, io sono Giovanni Redi e sono il fondatore del metodo Ready più Fitness Allora ragazzi, come al solito io vi ricordo che vi potete iscrivere in questo canale, il canale è ovviamente gratuito Ci sono oltre 150 video allenamenti informativi e come spiego ed educo le persone come funziona il metodo Ready più E come faccio ad ottenere costantemente i risultati con i nostri clienti, quindi iscrivetevi è gratuito e poi soprattutto ragazzi Prima di approfondire, di entrare in consulenza con qualcuno, prima dovete capire, è per questo che io faccio video ogni settimana e ogni mese li trovate proprio su questo canale Quindi attiva la notifica Bene, detto questo oggi parlerò di un concetto veramente molto importante che se sei già un mio cliente o se sei una persona che segue da settimane i miei canali Sicuramente ne avrei sentito parlare perché parlerò della routine La routine è una cosa veramente molto importante ma oggi parlerò della routine per come costruire l'addominale tartaruga anche se non hai tempo Ok? Bene, quello che ti voglio dire è che fondamentalmente la maggior parte dei personal trainer o di quelli fitness coach, chiamoli come il cavolo ti pare Quelli che vanno le pilloline e robe pare, ti continuano a dire che per fare l'addominale si fanno a tavola Per fare l'addominale le devi allenare in un modo o in un altro, sono assolutamente cose sbagliate Cioè o meglio, voglio precisare che è ovvio che se te fai degli esercizi e poi vai a mangiare ogni giorno hamburger e queste cose qua e mangi di merda Non male che diventa difficile, siamo tutti d'accordo, non è che c'è bisogno di Giovanni Redi né di questi qua che te lo dicono Però c'è un dato di fatto che creare programmi di allenamento da pochi minuti per creare il tuo addome tartaruga sicuramente è fondamentale Perché? Perché la maggior parte delle persone non ha tempo e devi cercare qualcosa che diventa una routine costante ogni giorno Dove in poche parole con pochi minuti riesce a costruire l'addominale a tartaruga Detto questo cosa succede? Molto semplice, oggi ti voglio presentare il mio routine di 4 minuti Provalo le prossime 30 giorni e fammi sapere come è andata perché ti posso garantire che otterrai grandissimi risultati L'allenamento che dovrai eseguire è un protocollo Tabata, solo 20 secondi di lavoro e 10 secondi di riposo Lo dovrai ripetere almeno 2 volte, quindi solo 8 round, quindi come ti ho detto 4 minuti di routine di addominale a tartaruga È ovvio che se poi naturalmente tu riesci a farlo più di 2 giri, ma riesci a fare 8 minuti, 16 minuti, tanto meglio Ma l'importante è che lo fai tutti i giorni, provalo per 30 giorni e vedrai che otterrà grandi risultati Detto questo, come primo esercizio, camilata con le balli Come secondo esercizio, plank Come terzo esercizio, sit up Come quarto esercizio, mountain climbers Mi raccomando, adesso tocca a te